E' stato presentato il logo per Piemonte Regione Europea dello Sport 2022, importante riconoscimento assegnato da Aces Europe e vinto dal territorio regionale. Questo titolo prevede una lunga serie di iniziative di promozione sportiva che interesseranno capillarmente la regione. Il logo vincitore, selezionato tramite bando, è stato disegnato da un'agenzia di comunicazione torinese che seguirà anche la campagna di promozione di quest'anno dello sport. Dopo aver festeggiato per l'assegnazione del titolo di Regione Europea dello Sport entriamo in una fase operativa e ci dotiamo degli strumenti che ci serviranno per affrontare al meglio il 2022 che ci attende, afferma l'assessore regionale allo sport Fabrizio Ricca. Con questo sito, già operativo, forniamo un agile collettore di eventi che servirà alle realtà sportive del territorio per promuovere tutto quello che stanno organizzando. Il lavoro che abbiamo fatto con Aces e con Visit Piemonte è una ricchezza che avrà effetti importanti negli anni a venire. Puntiamo sullo sport di base, sui nostri comuni e sulle nostre associazioni sportive. Questo logo ben rappresenta l'asso nella manica che oggi il Piemonte si trova ad avere in mano. La candidatura al titolo di Regione Europea dello Sport 2022 parte dal territorio, dai comuni e sicuramente porterà a ospitare grandi eventi. Ma la vera ricchezza di quello che ha pensato il Piemonte sta nell'aver puntato sullo sport di base, aggiunge Enrico Cimaschi, coordinatore Italia settentrionale Aces Europe. E anche questo ad aver premiato il Piemonte quando si è candidato, aver pensato al fatto che lo sport vada diffuso su tutto il territorio in modo capillare, conclude Beppe Carlevaris, presidente del consiglio di amministrazione di Visit Piemonte. Questo portale ci serviva per creare un collettore di informazioni e dati che arrivano dal territorio. Saranno tante le realtà coinvolte che avranno bisogno di coordinare le loro attività e con questo vogliamo facilitarle. Il sito sarà composto da tre sezioni, uno con i grandi eventi sportivi, ricercabili per disciplina e località, uno con approfondimenti sulla cultura, una galleria mediatica che raggruppa video promozionali, foto, locandine. In soli due giorni sono già 150 gli eventi caricati sul portale. È evidente che funziona ed è evidente che ci sia voglia di comunicare cosa si sta organizzando.